Terzo appuntamento con Aspettando il Festino 2019. Appuntamento giovedì 16 maggio dalle ore 15.30 con la giornata di studio Rosalie e le altre, simboli del sacro femminile e del culto rosaliano, a cura del professore Ignazio Buttitte, docente dell'Università degli Studi di Palermo, con la partecipazione della Fondazione Ignazio Buttitte e del Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino. Sarà infatti il Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino di Palermo ad accogliere per l'occasione studiosi ricercatori che si confronteranno su immagini e simboli legati alla sacralità femminile mediterranea. Feste e pellegrinaggi in onore di Madonna e Sante deliniano con forza uno scenario del sacro femminile di lunga durata e ancora assai vitale. Chiese e santuari solitamente allocati presso Grotto Fonti vengono avvertiti dai devoti quali spazi festivi privilegiati. Sul tema si confronteranno, oltre a Ignazio Buttitte, che introdurrà i lavori e modererà l'incontro, Natale e Spineto dell'Università di Torino, Massimo Cultraro del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Catania, Rosalba, Pambini dell'Università degli Studi di Catania, Marino, Niole ed Elisabetta Moro dell'Università degli Studi di Sororsola, Benincasa di Napoli. E ancora Antonino Frenda, componente dello studio teologico San Gregorio Argentino e Piercarlo Grimaldi dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. A chiudere la giornata di studi alle 19.30 sarà lo spettacolo Coreade, ovvero d'acqua e di fuoco d'amore e di morte, del gruppo Trizzi di Ridonna. Saranno presenti tra gli altri Leo Luca Orlando, sindaco di Palermo, Fabio Giambrone, vice sindaco, Adam Darascia, assessore alle culture, Lollo Franco, direttore artistico e Vincenzo Montanelli, direttore organizzativo del 395esimo festino di Santa, Rosalia.